buongiorno a tutti salve e vi ricordate il crossbow thunder il mio fucile da esperimento niente ho fatto qualche modifica ora ve la faccio guardare vi ricordate quei qui passa elastici che erano ai lati che una cosa un po che mi dava fastidio sinceramente e niente ho provveduto a rimuoverli e a creare due guide che servono ad accompagnare gli elastici in posizione credo che sia una buona soluzione giudicate voi non posso non sono un esperto quindi giustamente va bene un saluto a tutti di seguito troverete le foto dei vari passaggi un saluto a tutti un saluto a tutti un saluto a tutti